Sul sito del Ministero dell'Interno la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ha pubblicato la relazione annuale 2020 relativa al 2019 in cui ha riassunto con grafici e tabelle le attività e i risultati ottenuti in tutta Italia nella lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti. In Molise, come è noto, questa battaglia è serrata. Il procuratore, capo di Campobasso Nicola D'Angelo, che alla guida anche della DDA, insieme a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sta colfiato sul collo dei venditori di morte, spacciatori. Operazioni mirate e precise, quelle condotte che hanno portato a stroncare sodalizi pericolosi e tentativi di infiltrazioni malavitose nella nostra terra. Operazioni continuate anche quest'anno, con piazza pulita, ad esempio da Napoli la Camorra riforniva la piazza boianese con almeno 5 chili al mese di cocaina. Qualche giorno fa ancora scoperta una piantagione di marijuana con circa 4.000 piantine a Campomarino. Nella relazione si legge che rispetto al 2018. Nel 2019 sono stati registrati consistenti aumenti in percentuale di sequestri di droga in Molise, 106 chili, soprattutto marijuana 99 chili, di cui 60 guglionesi e ascisce a fronte dei 30 dell'anno precedente. Come si diceva, le operazioni antidroga in Molise sono state concentrate puntuali frutto di accurate indagini. Nel 2019, 134, una ventina in meno rispetto al precedente anno, dati così commentati dal dirigente della squadra mobile di Campobasso Raffaele Iasi. A fronte di un certo quantitativo di stupefacente sequestrato c'è ben altro insomma che non viene intercettato dall'attività delle forze di polizia. C'è da dire anche che noi siamo e soffriamo insomma nel Molise di un certo pendolarismo dalla Puglia e dalla campagna come abbiamo sempre evidenziato e come è stato iniziato anche in una recente indagine della procura della Repubblica di Campobasso con Carabinieri Finanza che ha interessato il Matese. Per cui quantitativi di stupefacente, soprattutto droghe leggera, abbiamo visto che i sequestri di marijuana, di piante di cannabis ma anche hashish insomma sono rilevanti. Pensiamo che questo è lo stupefacente che è l'anticamera poi per le droghe pesanti. Sfugge un dato interessante dalla statistica. La cocaina sembra quasi che sia una droga che nel Molise è poco spacciata, in realtà non è una droga di strada o relativamente di strada perché ha costi rilevanti. Quindi è la droga, io dico dei colletti bianchi, di professionisti, di fasce agiate che è molto più complicato combattere rispetto ad una droga spacciata per strada. Le persone denunciate per droga nel 2019 sono state complessivamente 264, quasi il 26% per associazione ai fini di spaccio, di cui 110 arrestate, il dato più alto dell'ultimo decennio. 36 gli stranieri coinvolti nel narcotraffico, meno rispetto al 2018, di cui 16 arrestati. 11 minorenni denunciati, di cui uno arrestato. Nessun decesso per abuso di stupefacenti nel 2019, mentre nel 2018 sono stati tre. Le operazioni in generale aumentano, aumentano anche il numero dei denunciati. Devo dire però che l'attività di contrasto non è quella risolutiva insomma del fenomeno, insomma dello spaccio, del consumo di stupefacenti. Se non si incide sugli acquirenti, anche con misure non di carattere penale ma di carattere amministrativo, la guerra alla lotta agli stupefacenti non si vince. Anche perché abbiamo visto che lo spaccio si rigenera già un minuto dopo gli arresti fatti e operati dalle procure monisane. Quest'anno l'andamento come si delinea? I sequestri dell'anno continuano ad essere rilevanti, l'attività anche di contestazione agli acquirenti è rilevante, arresti per droga anche quest'anno si confermano insomma nel trend degli altri anni.